Potrete sapere sarà dove sono nato e che schifo di infanzia ho avuto e cosa facevano e non facevano i miei genitori prima che nascessi e altri stronzate alla David Copperfield ma a me non va di entrare nei dettagli se proprio volete la verità primo è roba che mi annoia e secondo ai miei verrebbero un paio di ictus a testa se andassi in giro a raccontare i fatti loro su certe cose sono permalosissimi, specie mio padre simpatici per carità, ma anche parecchio permalosi e poi non mi metto certo a farvi la mia stupida autobiografia o non so cosa vi racconterò giusto la roba d'amante che mi è capitata sotto Natale prima di ritrovarmi così a pezzi che poi sono dovuto venire qui a stare un po' tranquillo va bene